Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo nuovo video vi spiegherò velocemente come disattivare la modalità gioco in Windows 10. La modalità gioco è una modalità che è stata pensata da Microsoft per il gaming. In altre parole cosa fa? Focalizza tutte le risorse sul gioco durante la sua esecuzione. In questo modo diciamo il gioco tecnicamente gira meglio. Soltanto che di recente con Call of Duty Warzone ed altri titoli la modalità gioco sta facendo soltanto danni perché sta arrecando ai suddetti titoli non pochi problemi. Quindi disattivandola fino a quando Microsoft non risolverà il problema dovreste poter giocare in modo idoneo, cioè senza magari eventuali crash, rallentamenti o altro. Per disattivarla andate su Start, Impostazioni, Giochi, Modalità gioco e qui la disattivate. Una volta che l'avete disattivata dovreste risolvere i problemi che affliggono alcuni titoli dovuti proprio ad alcuni problemi relativi alla modalità gioco.